Nel febbraio di quest'anno ho subito la contaminazione del virus Covid-19. Ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno, sono stato sedato e intubato per una decina di giorni in terapia intensiva. Per i successivi tre mesi ho respirato giorno e notte attraverso la ventilazione meccanica, prima con una maschera di plastica dura su tutto il viso e poi con delle cannule nasali. La statistica mi colloca in quel 30% di sopravvissuti che gode di ottima salute. La stessa buona sorte non è toccata tra i miei compagni in distanza, anch'essi ricoverate in rianimazione. Uno sopravvive oggi con gravi problemi respiratori, uno è da cinque mesi ancora all'ospedale e uno è morto in terapia intensiva. Riportato nel reparto di pneumologia ho avvertito come la paura si è fatta calma piatta e la sensazione chiara di aver trapassato l'infinito e sfiorato l'aldilà. Senti che sei vivo, vivo per delle casualità, per delle fruttualità, come nel mito di Edipo. Vivo soprattutto per le cure di eccellenza dei medici e degli infermieri. La scienza del sapere, del conoscere, della competenza, praticata con esperienza, passione e umanità, mi ha salvato la vita. Ha salvato la vita di tanti. I filosofi greci ricordavano che la radice della scienza è amara ma dolce è il frutto. A quei cittadini che ostinatamente non vogliono vaccinarsi auguro di non infettare loro figli e loro nipoti tanto da doverli poi piangere. Auguro di non conoscere il tempio della terapia intensiva. Auguro nel caso di rientrare nel 30% dei sopravvissuti. Ma soprattutto auguro loro di guadagnare quel tempo per poter con umiltà poi ringraziare la scienza e ad alta voce chiedere scusa a tutti.